Eccezionale intervento chirurgico all'ospedale Vito Fazzi di Lecce su una paziente 62enne di Brindisi affetta da tumore a rene e trombosi neoplastica che riseliva fino al cuore. Un'operazione delicatissima mai avvenuta prima nel nosocomio leccese e che si è rivelata molto complessa. La patologia a livello mondiale spiegano i dirigenti dell'asle leccese è talmente rara che in Italia di interventi simili se ne svolgono appena uno o due all'anno e la morte in caso di distacco del trombo può avvenire anche in pochi minuti. Il delicatissimo intervento sulla 62enne Brindisina è durato sette ore ed ha interessato rene, fegato, cuore e vena cava inferiore. È stato condotto a più mani ed ha coinvolto tre equip che hanno operato simultaneamente, quella di urologia guidata dal dottor Filoni, di cardiochirurgia con a capo il dottor Zaccaria e di chirurgia vascolare con il dottor Tondo. L'operazione è stata eseguita con sofisticate tecniche multidisciplinari e strumenti in grado di preservare l'integrità degli organi e degli apparati. L'intervento è riuscito perfettamente anche grazie ad una diagnosi brillante tempestiva. In questo caso un ruolo determinante è stato giocato dal dottor Cosimo Greco, ecografista in cardiochirurgia e dal dottor Luca Giordano del servizio di radiodiagnostica del Fazzi. Sono loro ad aver scoperto la malattia. La paziente dopo 20 ore di terapia intensiva ha iniziato la degenza ed è stata subito in grado di ringraziare tutto il personale medico ed infermieristico che le ha salvato la vita.